L'archivio dell'ispettore di Falco, di Fabio Fabiano, legge Alberto Caneva, Utabutu di Piscimortu. Ricevuto il decreto di autorizzazione, l'ispettore chiamò la ditta Neri, che si era occupata del seppellimento, per effettuare l'apertura della cassa. Loro hanno chiuso e loro sanno come aprire, disse a Romano. Si diedero convegno per le prime ore del pomeriggio, ma di Falco delegò l'intera operazione a Romano, che a sua volta la subdelegò ad Ombra. L'osservazione di cadaveri sepolti da sei mesi non era una di quelle visioni che uno aspetta da una vita, e poi la puzza che sarebbe uscita dalla bara sconsigliò i due ispettori a presiedere a quell'accertamento, a cui fu delegato l'inferiore in grado Ombra. Il quale, inferiore in grado, ma non certo in furbizia, quel pomeriggio incaricò di fare tutto agli operai della ditta, e per accertarsi che tutto fosse andato per il verso giusto, e per non sentire la puzza, si posizionò a cento metri dalle operazioni, e chiese la cortesia a un addetto alle pompe funebri di scattare delle foto. L'operazione si concluse con un nulla di fatto. Infatti, all'interno della cassa da morto vi era un cadavere corificato, e oltre a questo macabro ritrovamento, nulla di rilevante. Ombra portò le foto in commissariato all'interno di un cd, e lo diede a Di Falco per la visione. L'ispettore capo lo sistemò all'interno dell'hard disk del suo computer, diede una guardata a quelle foto orribili, e le archiviò sgomento. Con la riesumazione del cadavere, e con il nulla di fatto incassato, Di Falco proferì una frase che riassumeva lo stato di stasi delle indagini. A binario morto, semu. I poliziotti sanno bene che spesso, tutte le indagini che non vengono concluse rapidamente, hanno quasi sempre un nuovo imprevisto sviluppo nel tempo, magari lavorando ad altri casi. La novità giunse inaspettatamente dal custode del cimitero. Di Falco un giorno si trovava dalle parti del Camposanto, per l'ispezione cadaverica di un soggetto morto suicida impiccato, quando fu avvicinato dal custode del cimitero Casalicchio. Ispettori, c'ho io a diri una cosa importante! Di Falco se lo prese sotto braccio, e si portò il custode in disparte, e gli chiese «Chi m'ha viato a diri!» L'ometto fece una premessa «Chi do cacicondo? Non lo metto a verbali! Perché mi scanto che m'ammazzano!» «Ma vi dissi! C'ammazze di chi do guerra! Noi orno sì! E uno no! Ven'è a chianghi nì la balata di pisci morto!» Di Falco lo guardò negli occhi e gli disse «Quello che hai detto a me non lo devi dire neanche in chiesa al prete quando ti confessi! Ora ti do il mio numero di cellulare! Quando vedi la madre di guerra al cimitero mi fai squillare il telefono, io chiudo la conversazione e tu non devi dirmi niente per telefono! Al resto penso tutto io!» «Capisti!» Il custode abbassò lo sguardo e senza aggiungere una parola in più fece un gesto di approvazione abbassando la testa e chiudendo gli occhi. Il custode e il poliziotto si scambiarono i numeri di cellulare. L'ispettore ritornò alla sua occupazione originaria ovvero assistere all'ispezione cadaverica assieme al medico legale e prima di andare via si rivolse a Casalicchio e gli buttò una frase in dialetto che avrebbe sintetizzato tutta la discussione precedente. «Mezza parola!» Non trascorsero neanche due giorni. Intorno alle otto giunse la chiamata di Casalicchio. Di Falco non rispose e, come da accordi, chiuse la conversazione. Immediatamente dopo convocò Ombra nel suo ufficio. «Tu la conosci a Giuseppina Sacco?» «No, chi è?» «Andiamoci diversamente. Tu la conosci Mariella Guerra?» «E' certo che la conosco!» «È uno stecchione!» «23 anni il 22 maggio, la sorella della titante!» «Lo sapevo!» «Se sono belle donne conosci pure la data di nascita. Se sono vecchie o brutte non ne conosci l'esistenza. La madre somiglia molto alla figlia. È sessantina, non ti puoi sbagliare. Ti prendi a Pisano e vai al cimitero. Devi verificare se sta davanti la tomba di Piscimortu. E che ce fa la madre di Guerra davanti alla tomba di Piscimortu?» «È quello che dobbiamo scoprire», concluse la conversazione di Falco. Non trascorsero neanche dieci minuti e Ombra chiamò al cellulare di Falco. «Ti confermo!» «Appena siamo arrivati, era davanti la tomba del marito. Ha sistemato dei fiori e adesso si trova davanti la tomba di Piscimortu». «Ok, ritornate in ufficio e scrivete un rapporto che io avviso il commissario Capuozza e chiamola Catturandi. E poi, se piange e usa un fazzolettino di carta e lo getta, raccoglietelo e sequestratelo». La notizia che la madre del famoso latitante e capo mafia andasse a visitare la tomba di un soggetto sicuramente pregiudicato ma non inserito in un contesto mafioso poteva aprire degli scenari investigativi quantomeno inediti. «Occupati di contattare direttamente l'ispettore Lupo della Catturandi», dispose il dirigente del commissariato a Di Falco una volta appresa la notizia. «La Catturandi» era una sezione della squadra mobile. Si occupava specificatamente della cattura dei latitanti e di eseguire l'arresto di soggetti a cui la pena era diventata definitiva o era stata spiccata una misura restrittiva in carcere. Era composta da una decina di poliziotti ed era l'incubo dei mafiosi e dei latitanti di mafia. Da alcune intercettazioni ambientali effettuate tra mafiosi all'interno di luoghi di riunione si percepì che li denominavano diavoli. Li chiamavano così perché i mafiosi li vedevano dappertutto. Erano la loro più grande paura. popolavano i loro incubi. Erano coloro che materialmente li arrestavano come i diavoli per condurli nell'inferno del carcere da dove molti di loro sarebbero usciti solo dopo lunghi anni di carcere se non addirittura da morti. Li temevano soprattutto i mafiosi e i latitanti che gli agenti della polizia penitenziaria definivano soggetti fine pena mai ovvero con più ergastoli alle spalle. A ombra quel gruppo di poliziotti che disseminavano microspie sfondavano porte di casolari di campagna alla ricerca di latitanti piaceva tanto. Gli piaceva il loro modo irruento di agire quando avevano il sospetto che un latitante si trovasse in un determinato posto. Portavano in macchina tutto un set per l'apertura di porte e lucchetti composto da piedi di porco arieti cesuie e mazze. Di Falco invece apprezzava la loro capacità di analisi quando aveva collaborato con loro gli era sembrato di condurre una partita a scacchi con lo studio di mosse e contromosse. I poliziotti della catturandi si dedicavano esclusivamente a quello e dedicavano interi anni della loro vita professionale alla cattura di singoli pericolosi latitanti. Del ricercato conoscevano tutto come dei loro familiari e delle persone che gli erano vicine. Erano padroni delle loro abitudini pregi difetti manie indicibili segreti. Conducevano una vera e propria guerra di nervi con i parenti e favoreggiatori dei latitanti che erano consapevoli di essere sotto intercettazione. Quelli della catturandi non erano interessati alle parole che si intercettavano ma a ciò che poteva essere nascosto dietro di esse. I suoni istintivi del pianto e del ridere l'ironia della voce le perplessità di chi ascoltava rispetto a quello che diceva l'interlocutore. Pedinavano i soggetti li osservavano attraverso telecamere nascoste erano attenti ai particolari al cambio di abitudini alle novità. Quando fecero una riunione in commissariato con i ragazzi della catturandi Di Falco cominciò a raccontare tutto quello che era successo sin dall'inizio. Tutto è cominciato con un furto e il ritrovamento di un carro da morto di proprietà della ditta Neri con annessa bara vuota anche se la cassa non è stata più ritrovata. In seguito vi è stato un attentato intimidatorio cinque colpi di pistola contro la saracinesca della ditta Pipitone sei mesi fa circa moriva Piscimortu e scivendo lo strozzino e veniva seppellito nel cimitero dalla ditta Neri qualche settimana fa Gerlando Guerra fratello minore del latitante Salvatore veniva sorpreso mentre con una mazza stava sfondando il loculo di Piscimortu. Non ci è riuscito perché Ombra prima che completasse il lavoro lo ha stinnicchiato a terra con un pugno e poi arrestato. Da un controllo che abbiamo fatto dentro il loculo e dentro Utabutu non è stato rinvenuto niente di particolare a oggi resta sconosciuto il motivo del gesto di Gerlando Guerra che nel frattempo è stato liberato anche perché la famiglia di Piscimortu non ha sporto querela. L'ultimo episodio che abbiamo accertato è la visita di Giuseppina Sacco all'oculo di Piscimortu. di Piscimortu. di Piscimortu. di Piscimortu.